Tanti auguri a me, tanti auguri a te, tanti auguri a Francesco, tanti auguri a me. Voglio dire al Papa? Io vorrei dire al Papa che gli vogliamo tanto bene e lo incoraggiamo in quest'opera che fa a beneficio di quelli che si trovano in difficoltà, dei più poveri della terra. Coraggio Papa Francesco, siamo tutti con te. Ciao, Buon Natale! Buon Natale, auguri! Grazie mille! Grazie mille!